Filler, filler, filler. Ogni giorno sempre più donne si avvicinano a questo trattamento sicuro e facile. Lo stile di vita di ogni persona ha una notevole influenza sul benessere psicofisico. La Promo Italia ha creato Skin Fill, filler a base di acido ialuronico, trattamento medico ambulatoriale facile da seguire. Guardiamoci questo filmato gentilmente offertoci. Skin Fill, filler di acido ialuronico, non di origine animale, biocompatibile, biodegradabile, sterile e sicuro. Skin Fill è prodotto in tre diverse viscosità, a seconda della zona da trattare. L'acido ialuronico è una sostanza naturalmente prodotta dal nostro organismo. Insieme al collagene e all'elastina è in principale responsabile della salute e della giovinezza della nostra pelle. Grazie. 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 Non esistono rischi legati all'uso di acido ialuronico. Grazie alla sua tecnologia e alle sue caratteristiche, Skin Fill è l'unico e solo filler che realmente dura dai 9 ai 12 mesi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.